Clizia ci mostra la cameretta del piccolo Gabriele ed è molto molto bella Allattare, fare colazione, adesso la buonora Intanto c'è l'outfit da parolino doc del mio baby che adoro Ecco, vi mostro anche la cassettiera che ho preso sempre da Foppa Quadretti, guardate che bella Ho messo tutte le cosine nel cucciolino qui ed è anche fichissima La cameretta per un bambino è la prima cosa, infatti Clizia se ne è presa a proprio cura Grazie